No, ma tutti i cazzini natalizi sono fantastici. Sì, non credo che si riprendano. Sono fantà, no, li devi mettere così. Mi piaceva l'idea di questo. L'idea del calcio natalizio è divertiva. Ragazzi, bentornati. Eccoci qua. Oggi sono in compagnia di Luisa, una notissima attrice. No, non è vero. Non è un'attrice. Quindi dice, non è un'attrice che ci sta a fare qua, quindi. Giusto? Il motivo è molto semplice. Io ho conosciuto Luisa durante un corso che ho ottenuto durante il mese di ottobre per un ente di formazione dove parlavo di mobile videomaking. Luisa era una delle allieve, come dire, e molto brava. Ho imparato tutte le nozioni apprese durante questo corso di formazione per mettere in atto la produzione di uno spettacolo teatrale. Voi direte dove lo spettacolo teatrale, perché è tutto chiuso. Cinema chiusi, teatri chiusi. Quindi, voglio dire, il nostro comparto sicuramente non sta vivendo uno dei suoi anni migliori, ma, ed è questo il motivo in cui ho invitato Luisa, la cosa che mi piace è far vedere come il digitale, d'altra parte, ti apre opportunità, possibilità da mettere in pratica. Ecco, è una cosa che lei ha fatto. Tutto questo lei l'ha fatto con un format che si chiama LascopertaD, www.lascoperta.com. E niente, quindi oggi parleremo di questa sua produzione. Intanto, ribbenvenuta, sicuramente. Grazie, grazie. Ho detto bene? Sì, hai detto tutto bene, meglio di come potessi dire io. Grazie che sto nel tuo salotto qui, ho un po' invaso lo spazio. No, 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 che invaso, no, 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 no. Non voleva venire inizialmente, diceva, ma io non sono un'attrice, lo so. No, è vero. Come dà risposta? Decide lui in palinsesto. No, però ha potuto appurare che il professor Lucente ha le gambe, perché dopo un mese di lezione seduti, senza poter vedere le gambe, ha le gambe e calzino di Natale. Bellissimo calzino, ovviamente i calzini natalizi per l'occorrenza. Ti è piaciuto quel corso comunque? Da morire, sì, perché se oggi stiamo facendo veramente questo evento, lo stiamo facendo grazie al corso, alle tante professionalità che abbiamo incontrato, e che ognuna mi ha dato uno strumento per poter affrontare una cosa così, che è molto più faticosa e anche dispendiosa economicamente. Perché te comunque sia, non è che nasci come web developer oppure appunto videomaker, quanto piuttosto attrice o... No, io nasco come sostanzialmente una creativa. e faccio dei progetti, faccio degli eventi. Io mi definisco, sono un architetto nella vita, mi definisco un architetto degli eventi. Bello. E quindi organizzo eventi avendo quella deformazione professionale di architetto, che vuol dire avere una visione a 360 gradi del progetto. Perché quando tu progetti come architetto, parti dalle fondamenta fino al colore della placca dell'accensione della luce. La stessa cosa è dell'evento, parti dalla struttura dell'evento, dal budget, dalla pianificazione, eccetera, fino a dove il tuo invitato o chi parteciperà all'evento spegge la sigaretta. Quindi alla fine è la stessa cosa. E scusa, ma il corso che hai fatto perché dici che ti ha aiutato? Mi ha aiutato perché io avevo una preparazione sul campo. Quindi io ho fatto matrimoni di lusso, eventi aziendali, eventi teatrali, eccetera, ma la mia preparazione era basata tutta sull'esperienza. Invece il corso mi ha dato una struttura, quindi delle basi, chiamiamole scientifiche, che mi permette di affrontare l'evento in modo più razionale. La domanda è molto semplice. Chi è stato il miglior insegnante? E questa la vai passiamo. No, dai, dai, questo è carino. Io sono proprio nella vita così un po' giocherellona, per cui se la facciamo così, per me... L'ho già fatta, quindi questo non la rifaccio. Assolutamente il miglior insegnante è stato Alessandro Lucente, ma detta di tutte, tutte, tutte. Tutte, tutti, tutti. Dai qui ci ho assoluto, perché è un pazzesco. Poi si ritorce contro. Quindi è nato questo progetto adesso sul lato digitale. Quindi fondamentalmente voi questo qua era un qualcosa che già portavate, lo facevate già nelle tue... Noi, allora, noi praticamente proprio lo spettacolo di Natale avevamo già delle date in teatro, che poi ci hanno disdetto. Quindi avevamo un'unica opzione in realtà, arrenderci e rinviarlo. E da brava Riete, da brava donna, mi sono impuntata e ho detto no, lo spettacolo lo facciamo, ci proviamo. Avevo gli strumenti, grazie al corso, per poter affrontare un'opera titanica, perché l'abbiamo cominciata circa un mese prima, un mese e mezzo prima. Tempi strettissimi. Tempi strettissimi per tutto, veramente strettissimi per tutto, per la scrittura, per la scenografia, per la produzione, per trovare i tecnici, gli operatori, il teatro, chi ci supportava, l'ufficio stampa, insomma, la grafica, il sito, non avevamo neanche un sito internet noi ancora, perché spesso quando si lavora a teatro si basa sul passaparola, noi avevamo tanto passaparola, avevamo già fatto dei lavori anche per la regione Lazio, che aveva preso il nostro spettacolo precedente per una sua manifestazione, avevamo fatto già delle date con loro, per cui la cosa andava da sola, senza bisogno di tanta pubblicità. Invece un evento che è sul digitale ha già una selezione di target di per sé e quindi tu devi andare su internet, su Instagram, su Facebook, su tutti i canali social per pubblicizzarti, perché è lì che trovi il tuo target. Ok, arriviamo un attimo quindi sul discorso del digitale. Perché? Perché diciamo l'obiettivo anche di questo episodio è veramente far capire come il digitale, visto ormai siamo veramente H24 di fronte a uno schermo, vuoi per il lockdown, vuoi per il semi-lockdown, vuoi per tutti i motivi, comunque abbiamo sempre questi benedetti schermi davanti agli occhi, buttarci giù, far vedere che è un anno de... brutto. Bruttino bruttino, come diciamo noi ai bambini. Non ha senso, nel senso l'unica cosa che possiamo fare è darci da fare e cercare di sfruttare al massimo le occasioni, le opportunità che si parano di fronte ai nostri occhi. E quindi riuscire a... A me piace dire una cosa, darsi valore, perché abbiamo mille risorse, quindi possiamo reinventarci, possiamo imparare. Io comunque ho 42 anni, quindi sto facendo questo corso... Quasi 43. 33. Quindi sto facendo questo corso veramente da grande, assolutamente, no, 25 veramente. No, 28, sono cresciuta. 28, vabbè. E quindi secondo me la parola giusta è darsi valore, darsi valore perché non è che bisogna abbattersi. Ovvio che il momento è complicato, non è detto che ci saremo riusciti, ci siamo riusciti perché ci siamo dati valore e quindi non abbiamo mollato neanche un centimetro, abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche, veramente. Quanti siete all'interno di questa... Abbiamo quattro attori, dove c'è all'interno anche il regista che fa l'attore, poi avevamo tre operatori, c'è la produzione, che siamo sia io che Marco, c'era il fonico, c'era il tecnico Luci e poi c'erano i due scenografi, che mi piace citare, Domenico Latronico e Nicolò, il suo aiutante, che hanno fatto un lavoro pazzesco. Lui ha lavorato anche per Nandi Moretti e quindi diciamo ci ha prestato la sua arte perché ama il teatro e ha sposato la nostra causa. Ottimo. La cosa è, quindi abbiamo detto che questo qua è la scoperta di... Babbo Natale. La scoperta di Babbo Natale. Quindi è un format che è fondamentalmente per... Bambini dai 4 ai 10 anni. Sì, diciamo che la scoperta di Babbo Natale... Diciamo, il progetto è la scoperta di. È nato un anno fa, nel 2019, ho visto una foto su Instagram che rimandava all'anniversario della morte di Leonardo da Vinci, che a maggio era il 500esimo. Noi eravamo in piena crisi, nonostante non ci fosse il Covid, ma eravamo in piena crisi e ho detto ok, facciamo uno spettacolo su Leonardo da Vinci. Perché? Perché è un settore commerciale, mettiamolo così, che manca un po', no? I bambini viene fatto lo spettacolo su Frozen, che io adoro e amo, quindi non mi toccate Frozen, viene fatto lo spettacolo su Pinocchio, tutta una serie di personaggi. Però sui personaggi storici, no. E quindi ho detto, perché non lo facciamo? Presentiamo un personaggio storico in chiave ludico-didattica, quindi divertendoci e tutto quanto, quando i bambini poi lo affronteranno a scuola, avranno un background positivo e quindi sicuramente avranno un approccio, diciamo, quantomeno più divertito all'argomento. Mettiamola così, ci proviamo, a noi ci piacerebbe fare che fosse così. E quindi abbiamo esordito con la scoperta di Leonardo da Vinci. Alla scoperta di sarà un contenitore che porterà alla scoperta di tanti personaggi in futuro, ma non ve li svelo. Intanto abbiamo, insomma, Babbo Natale. Abbiamo Leonardo da Vinci e abbiamo Babbo Natale. Babbo Natale è un'altra figura storica, perché di Babbo Natale, cosa sappiamo? San Nicolaus. Sì, però Babbo Natale è nato a 198 anni, per esempio. Io non lo sapevo che aveva 198 anni ed è nato una notte di Natale di 198 anni fa da una novella, insomma. Dalla Coca-Cola. No, la Coca-Cola è venuta dopo. La Coca-Cola è venuta dopo, negli anni trenta è venuta. Tra l'altro la citiamo, che non gli pagano più i diritti. Però c'è tutta una bella storia. Diciamo, l'approccio ai nostri spettacoli è sempre dal punto di vista storico. C'è una nostra documentazione storica sul personaggio. Vabbè, Leonardo da Vinci è fondamentale, anche perché i bimbi così piccoli non hanno un background storico, quindi non sanno come si vestiva nel Cinquecento, come era una bottega nel Cinquecento. Quindi noi curiamo molto la parte scenica e la parte dei costumi, perché in quel caso, sì, c'è l'immaginazione del bimbo, ma deve essere anche un po' guidata nel periodo storico. Perché deve essere aderente, no? Quindi non è che, ne so, il gatto con gli stivali, ti faccio una scenografia un po' così immaginifica, se vogliamo dire, magari ho visto delle scenografie fatte anche solo con delle scatole, no? Il bambino poi lì si crea la sua, ed è giusto. In quel caso noi portiamo il bimbo in quell'atmosfera e quindi andiamo a curare i dettagli. Non c'è proprio teatro, alla fine, per bambini? Sì, teatro per bambini, dove però, per esempio, i costumi sono presi per il teatro dell'opera, cioè in un negozio fatti storicamente in un certo modo. Lo curiamo molto, è molto dispendioso. E quindi, diciamo, visto che è difficile riuscire a creare un passaparola in questo periodo proprio, com'è che state creando voi adesso il passaparola digitale? Cioè, qual è la strategia che hai messo in campo? Come l'hai messa in campo? Come ti è venuto in mente? Ho fatto un sospirone perché è una fatica immensa. Allora, diciamo che è complicato, ma non tanto, perché comunque la maggior parte delle persone in questo momento si sono avvicinate al digitale, si sono avvicinate alle piattaforme e non è complicato che abbiano già visto qualcosa online. Quindi da quel punto di vista siamo un pochino avvantaggiati. Il problema era creare una rete in così poco tempo. Abbiamo coinvolto No Telly Today con Giulia Tidens, che ringrazio, è una collega del corso, tra l'altro. Ciao Giulia! Mam Advisor, che è un altro blog di mamme che ci hanno già fatto l'evento online sulla loro pagina. E poi abbiamo attivato tutta una serie di altri canali. Per esempio, un escamotage è stato una fotografa, che è stata anche la fotografa di scena. Posso citarla? Sì, sì. Sabrina Cirulli. Ciao Sabrina! Ciao Sabrina! E loro hanno tutta una rete. Lei è una fotografa che fa servizi per famiglie, servizi natalizie, eccetera, eccetera. Quindi ha tutta una rete dove può condividere l'evento. Quindi l'escamotage è trovare le persone che hanno lo stesso target. Tu tutte queste competenze che stai mettendo in campo alla fine? Che le hai imparate fondamentalmente in quest'ultimo trimestre? Parliamoci chiaro. No, scusa, in quest'ultimo anno perché è un corso che è durato parecchio questo anno. Sì, beh, diciamo è partita ad aprile. Ok. Quindi con l'interruzione di agosto però sì, praticamente si è stato full immersion. Totale. Poi ovviamente sta la persona. È ovvio che ti può scivolare addosso oppure puoi pensare veramente ogni lezione ma anche ogni ora come un'opportunità per fare qualcosa. però poi devi essere tu che ti agganci a quello che ti viene detto o all'esercitazione che stai facendo e te la sfrutti. Quindi tu hai sfruttato tutto questo ma quindi tu hai cominciato questo corso già sapendo che l'avresti comunque utilizzato per il tuo format. O è nato? No, allora io ho cominciato questo corso per strutturarmi cioè avere una base solida delle nozioni che io non avevo infatti sono arrivate tutta una serie di nozioni tecniche è stato ed è un corso molto molto tosto impegnativo ma questo ce l'avano detto alle selezioni già che era molto molto complicato e man mano che io andavo avanti dicevo ah però a questo lo posso ah però a questo adesso rompo le scatole al docente così poi magari mi invita a fare l'intervista e mi ritorna utile per il format capito? avevo bisogno di capire dove mettere le energie e sicuramente nei blogger nelle persone che potevano immediatamente pubblicizzare aveva un senso una parola che penso che avevi detto anche è la parola sustainability cioè deve essere sostenibile lo sforzo che andiamo a creare ma mi è ritornata un pezzetto di una lezione di lune e questa quando ti dico che uno prende che dice a un certo punto prima ancora di buttarti dal trampolino devi capire se è yes o no e lo devi fare in ogni momento yes o no perché c'hai sempre quel momento per rinunciare prima che intanto infatti lo stai facendo dai Luisa vieni io non vieni no io no perché quindi io ero no no era che non era perché poi è diventato così cosa che ti ha dici ok perché mi hai detto il palinzesto lo decido io e poi per l'amore della causa questo e altro perché ragazzi per l'amore della causa l'altra cosa importante ovviamente perché per diciamo rendere realmente sostenibile non soltanto con lo sforzo ma poi anche concretamente tutto questo lavoro che loro stanno mettendo in campo che è alla scoperta di Babbo Natale quindi è comunque sia uno spettacolo che potete regalare figli nipoti amici amichetti se sei una zia o uno zio è perfetto se sei un genitore è perfetto se sei un nonno è perfetto questo qui è il modo reale per aiutare e sostenere l'arte il teatro e la cultura e soprattutto per riportare i bimbi a teatro online ma comunque lo spettacolo è stato girato in un teatro di Roma quindi su un palco vero con tutto quello che c'è che c'è intorno e se uno si vuole anzi non è che se uno si vuole io veramente vi invito a iscrivervi a partecipare e a guardare questo spettacolo andate su www.alascoperta.com e lì c'è il il form dove si compila si lascia la mail eccetera e si compra il biglietto abbiamo fatto un biglietto molto calmerato perché ha un prezzo massimo di 10 euro non mi piace parlare questa cosa però ha una sua idea dietro ha un costo di 10 euro a famiglia però se interagite con i nostri social c'è già uno sconto del 15% quindi aiutate pure qua col passaparola perché vi torna comodo sia a lato sconto per quanto vogliamo dirlo poi se tornate indietro nel video e vi ricordate che ho citato e magari seguite anche quelle pagine potreste avere qualche sconticino in più ottimo ragazzi grazie e mi raccomando mettete ovviamente like condividete ring the bell sul canale continuate a seguire il video di Hector qui abbiamo avuto Luisa con la scoperta di Babbo Natale spettacolo da vedere prossimamente dal dal 12 di dicembre al 12 di gennaio sarà online voglio solo dire che quando acquisterete il biglietto avrete 48 ore di tempo per poterlo vedere quindi se vi stancate oppure avete un impegno improvviso o una telefonata lo mettete in pausa e lo potete riprendere anche il giorno dopo ragazzi grazie intanto e ovviamente buone feste a tutti voi grazie a te Alessandro buone feste grazie a tutti